Non potevo esimermi dal parlarvi del ritorno sullo schermo dopo più di dieci anni di Sofia Lore nel film Netflix La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti. Prima di approdare sulla piattaforma di streaming Netflix, la pellicola doveva passare nelle sale cinematografiche nei primi giorni di novembre, ma a causa dell'emergenza sanitaria il tutto è stato ovviamente annullato. Il soggetto del film è tratto da un famoso romanzo francese del 1975, scritto da Romain Guéry con lo pseudonimo di Émile Ajar, ed è stato sceneggiato dallo stesso regista Edoardo Ponti, figlio di Sofia Loren e di Carlo Ponti, e da Ugo Chitti, uno di più importanti sceneggiatori italiani contemporanei. Suoi sono lavori come Occhio Pinocchio, Dogman, Gomorra e L'Imbalsamatore. Il lavoro di scrittura si è concentrato notevolmente sull'analisi dei rapporti tra i due protagonisti del romanzo, che sono il dodicenne di origini seneganesi Momò e l'anziana Madame Rosà, interpretata da Sofia Loren. Quest'ultima è una donna sopravvissuta all'Holocausto, ben evidenti sono i suoi numeri identificativi sul braccio, che da anni accudisce nel suo appartamento i figli di prostitute. Il dottor Cohen, interpretato dal bravissimo Renato Carpentieri, le chiede di accudire il dodicenne Muhammad, che per vivere spaccia nelle zone malfamate di Bari. I due in un primo momento hanno un rapporto tumultuoso, ma con il proseguire del tempo imparano a conoscersi e nasce una bellissima amicizia. La cosa che colpisce molto di questo film e che risulta essere una tematica molto attuale, ed è anche il fulcro centrale proprio del romanzo francese, è la rappresentazione di più culture che convivono in una stessa città. Nel romanzo La città è Parigi, nel film La città è Bari, che viene rappresentata in maniera molto vaga, potrebbe essere una qualsiasi città sul mare. I protagonisti rappresentano questa cultura specifica. Da una parte abbiamo Madame Rosat, che rappresenta quella cultura ebraica, e poi abbiamo sia Momo che anche il commerciante Amil, appunto dove Momo andrà a lavorare, che rappresenta quella che è la cultura islamica. In maniera marginale viene affrontata anche la tematica dell'Olocausto, che viene però molto più approfondita all'interno del romanzo. La vita davanti a sé è un racconto di sopraffazione, ma anche di riscatto. Non a caso l'incipit del film, con Momo che ruba questi candelabri d'argento proprio a Madame Rosat, strizza l'occhio al famoso romanzo francese di Victor Hugo, I Miserabili, che poi viene citato anche proprio letteralmente in una sequenza dal commerciante Amil in un dialogo proprio con Momo. Quest'ultimo è interpretato dal carismatico esordiente Ibrahima Gueye, ben calato nei panni di questo ragazzino irrequietto, disilluso e cresciuto troppo in fretta. Della sua recitazione colpiscono soprattutto gli occhi intensi comunicativi che passano dalla rabbia al pianto in maniera sincera ed efficace. Un ragazzo che sia con i suoi slanci negativi, sia con quelli di profonda tenerezza, riesce a tenere testa a un mostro sacro come Sofia Lore, che qui dà una, a mio avviso, delle sue migliori interpretazioni degli ultimi anni. Rappresenta una magnifica over-ottantenne che non ha paura di mostrare il cedimento fisico del suo corpo dovuto dal tempo e che dietro questa spavalderia nasconde una profonda dolcezza, un'attrice intelligente dal grande cuore che non ha mai dimenticato le sue origini popolari. Il romanzo di Guerri era già stato portato sullo schermo in Francia nel 1977 con l'ottima interpretazione di Simone Signorette. Vedremo se la nostra Sofia Lore riuscirà a battere tutti i record ed avere appunto la candidatura a questa ambita statuetta. Fatemi sapere se anche voi avete visto il film a Netflix La vita davanti a sé e lasciatemi tra i commenti i vostri pareri e i vostri giudizi sull'ultima pellicola interpretata dalla magnifica Sofia Loren.